Buongiorno, sono Franca Ferrari, sono cosiddetta ideatrice e direttrice artistica del Festival Più che Danza, che si svolge a Milano, al Teatro Fontana. È nato da una collaborazione con il festival concorso Le Voci dell'Anima, diretto da Maurizio Argani. Quindi l'idea era di portare a Milano una tappa di questo concorso e unitamente a questo, siccome io ero diventata molto consapevole dei problemi che la danza contemporanea aveva nella nostra regione e nella nostra città, quindi anche, ho detto vabbè approfitto, porto una tappa del festival e in più promuovo la danza contemporanea della Lombardia e questa è stata la prima motivazione. Il festival era anche nato, diciamo, promosso, sempre ideato da me e diretto da me, ma promosso dal CIDAP Lombardia, che era un'associazione, un'associazione di coreografi lombardi. E poi nel 2016 il CIDAP non ha più voluto, diciamo, proseguire, quindi ho proseguito con la mia associazione e è sempre stato, diciamo, sostenuto da Fondazione Cariplo, dal Comune Milano e anche dalla regione Lombardia. E quindi ha cominciato a trasformarsi nel 2016 a prendere una tematica, delle tematiche. Essendo della Lombardia è diventato molto anche più solo che di danza, parlava di contemporaneità e questo è anche un argomento che comunque a me interessa sempre moltissimo. Era diventato un po' multidisciplinare l'anno scorso, la versione dell'anno scorso.